Bentornati sul sito www.infocorsi.it Oggi vi parlo di un programma freeware, quindi gratuito, che si chiama U-Torrent. Molti di voi ne avranno già sentito parlare. In pratica è un client BitTorrent. BitTorrent è un sistema molto utilizzato oggi per scaricare sia film che anche musica, ma anche programmi da internet, ci sono molti programmi che utilizzano questo protocollo BitTorrent e U-Torrent è certamente quello più comune. Andiamo a vedere da che sito si scarica per vedere poi come si installa e come si usa. Intanto da Google vado a fare la ricerca con la parola U-Torrent. Dopo aver scritto, senza selezionare nessuna di queste voci che Google mi propone, primo semplicemente invio sulla tastiera. Vengo riportato in una pagina con i risultati della ricerca, nella quale per primo appare appunto il sito di U-Torrent. Attenzione che l'indirizzo sia proprio questo, www.utorrent.com, perché ci sono alcuni siti imitazione che tentano un po' di truffarci. Quindi attenzione, verificate l'indirizzo e poi cliccate sul titolo, quindi qui dove esce la manina con l'indice alzato, per visitare il sito stesso. Chiaramente avremmo potuto anche digitarne direttamente l'indirizzo qui sopra per arrivarci direttamente. Questa è la pagina di U-Torrent, una pagina piuttosto semplice, ci sono alcune indicazioni purtroppo in inglese. U-Torrent è un programma che può funzionare sia sotto Windows che sotto Mac, purtroppo non ne esiste una versione per Linux, per quelli che sono amanti di questo sistema operativo, anche perché U-Torrent non è un software open source e di solito solo i software open source, anche se questa non è una regola, hanno anche una versione per Linux. Clicchiamo su Free Download, cioè scaricamento gratuito, free, sta per gratis, perché pur non essendo open source, comunque U-Torrent è un programma freeware e quindi non dobbiamo pagare nulla per poterlo utilizzare. Cliccando su Free Download attendiamo un istante finché il nostro Internet Explorer non visualizza la solita finestra in cui ci chiede se vogliamo eseguire piuttosto che salvare il file. Già in altri tutorial vi ho detto che quando decidete di fare un download, uno scaricamento, è sempre meglio salvare il file per poterlo eventualmente controllare con un antivirus prima di eseguirlo. Certamente sul sito di U-Torrent possiamo tranquillamente fidarci di essere certi che non ci sono virus allegati al programma, ma come regola generale facciamo sempre questo comando, salva. Quindi clicco salva ed Internet Explorer mi chiederà in questa finestra successiva dove voglio salvare il mio file. Io deciderò ad esempio di salvarlo sul desktop, quindi scorrendo in alto qui nella struttura gerarchica di cartelle poi vado a cliccare desktop. Sul desktop sceglierò come nome del file quello che è già stato suggerito, quindi U-Torrent.exe, exe, sapete è l'estensione dei file eseguibili, quindi dei programmi, dunque è normale che U-Torrent abbia questa estensione e poi clicco su salva. Parte il download che è piuttosto veloce anche perché il programma è veramente molto leggero, è un programmino piccolissimo e anche per questo U-Torrent è preferito rispetto ad altri programmi dello stesso genere, cioè altri programmi che comunque utilizzano il protocollo BitTorrent, proprio per il fatto di essere un programma molto leggero, molto snello, che non appesantisce troppo il computer quando lo andiamo ad installare ed è quindi anche molto veloce nel suo funzionamento. E quando scarichiamo delle cose da Internet ciò che ci interessa di più è proprio la velocità di scaricamento. Chiudiamo quindi ora questa finestra e possiamo anche chiudere l'Internet Explorer che quindi ci era servito per adesso soltanto per individuare il sito del programma, scaricarlo e quindi adesso nella fase successiva lo installeremo. Dopo torneremo in Internet Explorer quando vi spiegherò il funzionamento di U-Torrent. Chiudiamo. Sul mio desktop, ecco ora lo trascino nell'area della registrazione così lo vedete anche voi, sul mio desktop c'è il file utorrent.exe. Attenzione, questo non è ancora il programma, ma è il file di installazione, cioè quel file che devo eseguire per poter far partire la procedura di installazione guidata che mi permetterà poi di avere il programma funzionante nel mio computer. Dunque, quando faccio doppio clic qua, non inizia ancora a funzionare U-Torrent, ma prima dovrò eseguire una procedura di installazione guidata, semplicissima. Facciamola insieme. Faccio doppio clic quindi su U-Torrent, Windows mi dà questo avviso di protezione, trattandosi in pratica di un file exe. Windows mi avvisa che alcuni file possono essere utili, ma questo tipo di file può danneggiare il computer, si riferisce appunto all'estensione, cioè i file che hanno estensione exe sono potenzialmente pericolosi, quindi potenzialmente non vuol dire sicuramente. In questo caso, ripeto, abbiamo scaricato U-Torrent da un sito più che sicuro, quindi non ci sono problemi. Se avessi un dubbio arrivato a questa finestra, farei a nulla e prima di continuare, con il tasto destro, utilizzando il mio antivirus, in questo caso io ho installato Avast, utilizzando il mio antivirus andrei a fare un controllo di U-Torrent stesso. Qui Avast sta controllando il file che ho scaricato da internet, sapete, perché ne abbiamo parlato in un altro tutorial, che quando la finestra di Avast scompare senza dare alcun messaggio di errore, vuol dire che non c'erano virus, non c'erano minacce. Quindi adesso sono più tranquillo, so che in questo file virus non ce ne sono, lo rieseguo, quindi faccio nuovamente doppio clic, e in questa finestra, dove prima avevo cliccato a nulla spaventato dal messaggio di Windows, adesso posso fare tranquillamente Esegui. Cliccando Esegui, finalmente parte la procedura guidata, in cui ci vengono date alcune indicazioni, qui dice questo programma ti guiderà attraverso l'installazione di U-Torrent, clicca avanti per continuare. Cliccando avanti, vi viene dato lo stesso avviso che vi avevo dato io a voce prima, cioè dice attenzione alle truffe online, un certo numero di siti web ha preso il nostro client U-Torrent gratuito e ha provato a farlo pagare tramite una sorta di tariffa o abbonamento, oppure lasciandolo installare gratuitamente, ma infettando il computer degli utenti con del codice malevolo, cioè con dei virus. Per proteggerti, assicurati di scaricare il nostro software, il nostro programma, solo da www.utorrent.com. Non devi mai pagare in nessuna circostanza per poter usare U-Torrent. Quindi loro vi danno lo stesso avviso che vi ho dato io all'inizio, l'unico sito ufficiale è questo, qualsiasi altro sito che vi proponga di scaricare U-Torrent, magari anche a pagamento, è un sito truffa, quindi evitatelo. Andiamo su avanti, qui c'è la licenza poi, che purtroppo è in inglese, comunque grossomodo ci viene detto che possiamo utilizzare gratuitamente U-Torrent senza pagare alcuna royalty. Più sotto, in un punto, vediamo se riesco a trovarlo, ci viene spiegato che il codice sorgente di U-Torrent è segreto e questa è proprio la differenza tra i software open source e i software freeware. Ecco qua, restrizioni, vedete il codice sorgente e la struttura di U-Torrent sono registrati e segreti. E quindi è proprio questa la differenza che passa, la differenza principale che passa tra un programma freeware che è sì gratuito nel suo utilizzo, ma non può essere ripreso e modificato da altri programmatori, invece un software open source ha il codice sorgente pubblico e quindi chiunque può prenderlo avendone le conoscenze e le capacità pratiche può modificarlo e creare nuovi programmi basandosi sul precedente. Comunque questa è solo una cosa interessante, più in linea teorica che altro. Andiamo su sono d'accordo per continuare l'installazione, ci viene proposto di installare nella cartella dei programmi in una sottocartella U-Torrent il programma stesso, ci sta più che bene, tra l'altro l'installazione aggiungerà un collegamento nel menu start e un collegamento anche sulla barra di avere luce, nonché un'icona sul desktop, che poi probabilmente sarà quella che useremo più spesso. Clicco ancora su avanti, quindi non sto cambiando niente, lascio tutto così come è selezionato, questo avvia U-Torrent all'avvio di Windows, ecco se volete potete toglierlo, in pratica se lasciate questa spunta, ogni volta che parte e che si accende il computer, U-Torrent viene eseguito automaticamente. Chiaramente questa cosa, magari se uno utilizza il computer più per lavoro e per studio che non per svago, può essere un po' fastidiosa, e quindi magari uno preferisce avviare U-Torrent quando lo desidera lui, e non che si avvia automaticamente ogni volta che accendo il computer. Quindi magari l'unica modifica da fare può essere questa, tolgo questa spunta per evitare che U-Torrent si autoattivi da solo ogni volta che accendo il computer, e quindi tenermi la libertà di decidere io quando usarlo e quando no. Quindi tolgo questa spunta, il resto lascio tutto, soprattutto è importante lasciare questo, aggiungi un'eccezione al firewall di Windows per U-Torrent, è importante questa cosa perché altrimenti si rischia che U-Torrent non funzioni correttamente, perché il firewall, cioè uno dei software di protezione inclusi in Windows, lo bloccherebbe. Quindi clicchiamo su avanti, e poi prima di fare installa, anche qui io vi consiglio per quanto non obbligatorio di togliere alcune cose, perché qui ci viene chiesto di impostare ask.com, che è un motore di ricerca, come pagina iniziale del nostro Internet Explorer. Io non vedo perché dovremmo accettare questa cosa, perché noi vogliamo installare U-Torrent e questo non vuol dire che vogliamo anche tenerci questo sito, questo motore di ricerca. Quindi questa la tolgo, tra l'altro ci viene chiesto se vogliamo anche utilizzare ask come motore di ricerca predefinito, e anche questa è una cosa che a me non sta bene. E tra l'altro ci viene chiesto di installare la ask.com toolbar, che sarebbe in pratica questa barra di strumenti che si andrebbe ad aggiungere ad Internet Explorer, che tutto sommato non darebbe nessun fastidio, però anche in questo caso io voglio installare solo U-Torrent e non queste altre cose allegate che mi vengono date insieme. Quindi tolgo anche questa spunta. Anche se doveste lasciarle non succede niente di grave, però ecco, per evitare che il nostro computer venga cambiato nelle sue impostazioni predefinite. Clicco su installa e parte finalmente l'installazione. Devo ancora cliccare su esegui. E continua. Sono alcuni comandi di protezione di Windows Vista. E finalmente U-Torrent è bello e funzionante. Adesso cerco un po' di ridurre la finestra in maniera tale che sia visibile all'interno della nostra area di registrazione. Eccola qua. Questo è il programmino che si è installato praticamente istantaneamente. Possiamo fare una specie di impostazione guidata iniziale del programma. Questa finestra che si è sovrapposta appare solo la prima volta, che lo installiamo e che lo utilizziamo. Quindi sarebbe importante impostare il tipo di connessione in maniera tale che U-Torrent si autoconfiguri nella maniera corretta. Quindi andando a cliccare il tipo di connessione, io vado su questo triangolino e mi scelgo la mia connessione, che nel mio caso è una DSL a 7 megabit. Qui adesso non viene elencato la DSL a 7 megabit. Metto quello che più ci si avvicina. Quindi la DSL a 10 megabit. E quindi automaticamente tutti questi valori cambiano impostandosi in base alla mia scelta precedente. Poi qui dice che c'è una porta che deve essere inoltrata dal router a U-Torrent per ottenere buone velocità. Ci sta avvisando il programma che perché funzioni correttamente. Il nostro router a DSL deve essere impostato in maniera tale che questa porta, le porte sono indicate con un numero e sono in un certo senso delle vie di accesso virtuali attraverso le quali i dati passano per andare dal nostro computer su internet e viceversa. Quindi questa porta dovrebbe essere aperta sul nostro router. Questo è un fatto piuttosto tecnico, quindi magari sconsiglio ai meno esperti di andare a mettere le mani in questa cosa. Comunque per quelli più esperti di voi sappiate che perché U-Torrent funzioni al massimo delle sue possibilità bisognerà andare ad aprire nel router la porta sul protocollo TCP con questo tipo di numero. In questo caso quindi lascio stare questa cosa e clicco su utilizza le impostazioni selezionate perché U-Torrent parta per la prima volta. Come vedete il programma è pronto per funzionare qui verranno elencati i file che stiamo scaricando vi ripeto che si può trattare di film, di musica, di programmi considerate comunque che a volte molte persone utilizzano U-Torrent per scaricare magari contenuti protetti dal diritto d'autore ad esempio se io scarico un film appena uscito al cinema o un film che normalmente andrebbe acquistato o noleggiato in videoteca chiaramente sto commettendo un reato, sto facendo un furto. ognuno ovviamente utilizzerà quindi questo programma sapendo quali sono le responsabilità sotto il punto di vista legale che si prende. Noi ovviamente faremo un esempio scaricando dei file che non sono protetti dal diritto d'autore e che quindi scaricando i quali non facciamo alcun reato poi ognuno si regolerà in base a quello che ritiene. Adesso devo inizialmente chiudere il programma lo chiudo con la X poi vi faccio anche notare come dopo l'installazione sul desktop è apparsa quest'altra icona che anche se sembra uguale non è per niente la stessa di questa perché questo vi avevo detto inizialmente è il file che ho scaricato da internet quello da installare e a dire la verità adesso una volta installato non mi serve più mentre questa è l'icona che appare dopo l'installazione ed è quella che dovrò utilizzare ogni volta che voglio far funzionare il programma e che voglio attivarlo. quindi il file di installazione dopo l'installazione lo posso anche eliminare quindi in questo caso lo cancello e mi tengo soltanto l'icona del programma per attivarlo ogni volta che mi serve. In realtà uTorrent da solo non può fare molto perché non è in grado di cercare i file che potrà scaricare quindi dobbiamo utilizzare alcuni siti particolari che si trovano su internet che fanno da motori di ricerca proprio per cercare le informazioni relative ai vari file da scaricare su questi siti poi ci verrà dato un'indicazione cliccando un tastino automaticamente il file verrà poi preso in carico da uTorrent che lo scaricherà. Facciamo un esempio quindi torniamo sull'internet explorer con un doppio clic e sicuramente il sito più famoso di ricerca di file di tipo BitTorrent è il sito mini nuova però poi ce ne sono anche molti altri come Isohunt ed altri ancora comunque sia in generale in Google se voi fate una ricerca con le parole siti torrent e date invio quindi siti torrent invio automaticamente vi usciranno molte vedete molte diciamo risposte i migliori 15 siti torrent i migliori 25 siti torrent e così via 10 maggiori siti BitTorrent a confronto cioè ci sono molti siti che vi danno poi un elenco di siti di motori di ricerca torrent da utilizzare prendiamo in questo caso per esempio questo primo qua i migliori 25 siti torrent quindi ci porterà su un altro sito adesso non so quale esattamente si tratta di un blog quindi di un sito tenuto in maniera più o meno amatoriale c'è questo elenco di siti e come vedete come avevo già detto io al primo posto viene messo mini nuova che è probabilmente oggi quello più utilizzato c'è anche The Pirate Bay che ultimamente è stato spesso nominato sui quotidiani a causa di faccende legali che lo hanno riguardato proprio per il discorso che vi dicevo prima cioè che molti file che vengono scaricati tramite il protocollo BitTorrent a volte sono file illegali poi c'è anche Isoant molto famoso Torrent Z ecco BitJunkie questi primi cinque sono certamente i più importanti e i più famosi quindi su uno qualsiasi di questi possiamo andare a fare la nostra ricerca utilizziamo mini nuova che è quello che vi consiglio di utilizzare all'inizio per le prime prove per impratichirvi poi tranquillamente potrete riapplicare le stesse cose anche sugli altri quindi vado a cliccare mini nuova si apre quindi adesso in un'altra finestra che cerco un po' di inquadrare chiaramente avremmo potuto anche direttamente conoscendo nell'indirizzo digitarlo qui sopra per arrivare direttamente sul sito mini nuova.org come vedete mini nuova non è altro che un motore di ricerca insomma come facciamo anche in Google qui dentro bisognerà digitare ciò che cerchiamo l'unica differenza rispetto a Google che è mini nuova è un motore di ricerca solo per i file di tipo torrent adesso per esempio io voglio cercare un programma ovviamente eviterò di cercare programmi protetti dal diritto d'autore ecco per esempio se cerco Microsoft Office io qui su mini nuova ce lo trovo però sappiate che scaricare Microsoft Office tramite questi canali è una cosa illegale perché Microsoft Office va acquistato in negozio tra l'altro ci si mette anche a rischio perché a volte magari qualcuno potrebbe spacciare per Microsoft Office un virus e quindi io poi magari pensando di risparmiare dei soldi se non sono molto esperto riesco invece di scaricarmi un virus quindi molto attenti a queste cose l'esempio che vi faccio io invece è su un software open source infatti il protocollo BitTorrent viene spesso utilizzato proprio per diffondere software open source oltre che nel modo classico cioè oltre che dai loro siti di appartenenza tramite questo protocollo qui quindi io vado a scrivere per esempio open office magari ci aggiungo ITA per essere sicuro di beccare la versione in italiano perché questo sito è internazionale e clicco search, cerca per vedere le risposte che mi vengono date mi vengono elencati svariati file da poter scaricare ovviamente mi conviene scaricare questo la versione 3.1 che è quella più nuova mini nuova mi dà una serie di indicazioni la data in cui questo file è stato aggiunto alla rete BitTorrent quindi 11 maggio 09 la categoria dice software quindi direbbe per esempio video se si trattasse di un film audio se si trattasse di musica e così via il nome del file poi mi dice la dimensione in megabyte questo è piuttosto grosso infatti il protocollo BitTorrent è proprio utile quando si devono scaricare file molto grossi perché permette di aumentare molto la velocità di scaricamento e poi mi dà alcune indicazioni sulla rete sappiate che quando scaricate un file BitTorrent in realtà lo state scaricando da altri privati come voi il file di solito è spezzettato in tanti piccoli pacchetti ognuno delle persone collegate alla rete come ora noi siamo collegati avendo il programma BitTorrent installato hanno alcuni pezzetti di questo file e quindi in pratica il nostro BitTorrent si occuperà di prendere i vari pezzi dai vari componenti della rete dai vari utenti privati collegati per poi ricomporre il file finale quando ci dice seeds vuol dire che sono gli utenti della rete che hanno il file completo perché abbiamo detto che molti avranno solo degli spezzoni quindi in questo caso ci viene indicato che ci sono 4 seeds cioè 4 persone che hanno questo file al completo tutti gli altri che invece sono collegati alla rete non ce ne viene detto il numero hanno soltanto degli spezzoncini comunque anche quelli ci saranno utili perché uno spezzone di qua uno spezzone di là alla fine ricomporremo comunque il file completo i leachers invece sono gli utenti che hanno deciso di scaricare il file da BitTorrent senza far parte di quelli che comunque mettono a disposizione degli altri anche i propri pezzi già scaricati e sappiate che collegarsi a BitTorrent come leach significa spesso rischiare di essere in un certo senso cacciati dalla rete, bannati dalla rete si dice in gergo quindi è sempre da evitare questa cosa adesso io per scaricare questo file devo andare a cliccare sulla freccetta verde all'ingiù che indica proprio il discorso del download dello scaricamento clicco qui e attendo si apre come vedete una finestra che dice aprire o salvare il file vi ricorderete che io vi ho sempre detto che in questi casi bisogna sempre fare salva tranne proprio in questo caso perché vedete adesso ci viene mostrata l'icona di utorrent, in pratica all'internet explorer vedendo che il file che abbiamo prelevato è un file di tipo .torrent vedete l'estensione torrent sa che abbiamo installato un programma che gestisce questi file l'abbiamo fatto poco fa il programma utorrent stesso e quindi ci propone di aprire quel file con utorrent perché utorrent automaticamente comincia a scaricarlo quindi facendo un'eccezione rispetto a quello che vi ho sempre detto in tutti i tutorial in questo caso facciamo apri perché c'è l'icona di utorrent l'estensione torrent e quindi apriamo il file cliccando apri Windows Vista ci viene chiesto se vogliamo consentire ad utorrent di prendere in carico quel file questa è una protezione che in Windows XP non uscirebbe in Windows Vista invece esce noi dobbiamo solo dire consenti a questo punto si apre utorrent stesso che avevamo chiuso in precedenza utorrent ci sta chiedendo adesso dove vogliamo scaricarci questo file che stiamo prelevando in automatico lui va a scegliere la cartella download di Windows Vista va bene? però ecco se noi vogliamo scaricarlo altrove magari sul desktop ci basta cliccare questo tasto con i tre puntini per scegliere un altro posto clicco qui dunque e mi vado a scegliere sempre aprendo qui la struttura gerarchica delle cartelle quindi da cartelle mi vado a scegliere per esempio il desktop ma potete scegliere una cartella qualsiasi voglia una cartella qualsiasi a piacere vostro quindi dice cartella desktop clicco seleziona cartella per confermare e qui vedete mi dice che nella cartella desktop verrà creato poi il file open office 3.1 eccetera eccetera file o cartella perché a volte vengono scaricate col protocollo bitorrent delle intere cartelle contenenti vari file ed è proprio questo il caso infatti vedete questo in realtà è il nome di una cartella il contenuto è questo cioè noi stiamo scaricando tutti questi file che sono contenuti in un'unica cartella quindi alla fine sul desktop ci troveremo una cartella con questo nome e con tutto questo contenuto dentro cliccando su ok il download viene aggiunto e già è partito dice stato in download è chiaro che all'inizio la velocità è azzerata perché siamo appena partiti man mano che utorrent comincerà a trovare i vari pezzetti del file stesso la velocità comincerà a salire nel frattempo che utorrent fa questa cosa noi torniamo un attimo su mininova per vedere qualcos'altro quindi io adesso metto un attimo da parte il programma stesso e tornando su mininova e tornando magari indietro sulla pagina iniziale del sito stesso eccoci arrivati sull'home page quindi sull'home page vi volevo far vedere solo a scopo didattico perché ripeto poi è una cosa che va considerata illegale come cercando anche dei contenuti multimediali quindi film o musica si trovino facilmente adesso mi viene in mente una stupidaggia mettiamo Alberto Sordi per esempio se do l'invio pur essendo su un sito americano troveremo svariati film di Alberto Sordi ecco vedete il malato immaginario eccetera eccetera tutti quanti quindi scaricabili tra l'altro mentre prima vedete per open office avevamo trovato solo 4 seed il che è un po' pochino e quando il numero di seed è basso di solito ci si mette molto tempo a scaricare un file invece in questo caso addirittura abbiamo 31 seed quindi sarà molto più veloce lo scaricamento di questo file piuttosto che di quello di prima e io lo posso sempre aggiungere sempre nella stessa maniera quindi in pratica cliccando su questa freccia verde e cliccando poi apri come abbiamo fatto prima e consentendo l'apertura del programma stesso quando poi mi viene chiesto dove voglio scaricare posso sempre lasciare desktop in questo caso non è una cartella ma un singolo file punto avi quindi audio video avi e quindi appunto un film che sto scaricando dando ok viene anche esso aggiunto al download ecco ve lo faccio vedere così come aveva aggiunto open office org viene aggiunto anche il malato immaginario tra l'altro guardate una cosa notate come mentre open office org che l'abbiamo aggiunto già da un paio di minuti anzi se vado a cliccare qui dice tempo trascorso 4 minuti in 4 minuti ancora non è riuscito a trovare delle fonti dei seed vedete e nemmeno dei peer i peer sono in pratica quelli che hanno solo degli spezzoni mentre i seed sono quelli che hanno il file intero invece quest'altro file aggiunto solo da 29 secondi ha già trovato 29 seed due dei quali sono già disponibili allo scaricamento e 19 peer per adesso 0 dei quali sono disponibili ma vi ripeto in questo caso molto più velocemente riuscirò a scaricare questo file piuttosto di quello che accade con open office org ora lo vado a togliere perché vi dicevo in pratica in questo caso sto facendo il vero e proprio reato cioè non si possono scaricare film e musica da internet quindi vado a fare rimuovi per annullare questo scaricamento mentre non faccio niente di male nello scaricare un software open source utilizzando BitTorrent ci fermiamo a questo punto poi insomma sarà piuttosto semplice andare ad approfondire il discorso anche da soli il programma è semplicissimo da utilizzare ricordatevi comunque sia insomma che ognuno si assume la propria responsabilità dei contenuti che decide di scaricare di scaricare di scaricare di scaricare di scaricare di scaricare di scaricare